Ciao a tutti amici di Fishing Evolution, io sono Andrea e questo è il canale di Fishing Evolution Italy o se mi stai guardando su Facebook questa è la pagina di Fishing Evolution Italy presentazioni fatte, voglio parlarvi adesso di un accessorio, di uno degli accessori che sto vendendo di più in assoluto sono sicuro che se mi state seguendo e mi seguite sicuramente vi è capitato sotto qualcuno dei tantissimi video che pubblichiamo sul nostro configuratore travi, se non lo conosci te lo spiego subito, te lo faccio vedere qui è un configuratore gratuito, ci puoi andare tutte le volte che vuoi, dove puoi configurare il tuo trave, preciso, preferito e puoi scegliere la configurazione, quindi il filo, con che filo se vuoi, nylon o fluorocarbon e poi in ordine dall'alto al basso poi scegli il capocorda, scegli il tipo di snodo, scegli il fine corda che è quello dove andrai a attaccare il piombo, quanti ne vuoi, come li vuoi, su ruzzola, angustina e poi alla fine puoi anche decidere di ricevere il preventivo, puoi rimettere sì e qui ci sarà Giuliano che ti chiamerà oppure no, dici no, stavo solo giocando, lo rifaccio tra tutte queste scelte che ci sono sul configuratore ce n'è una che viene praticamente scelta dal 99% di chi ci commissiona un trave e sto parlando del Rapid Roll Supreme questo qua, te lo faccio vedere da vicino, è bellissimo eccoci qua sul nostro banco di lavoro questo è l'accessorio di cui ti ho appena parlato il Rapid Roll Supreme ma andiamo a vedere cosa ha di particolare è l'attacco del piombo più scelto in assoluto tantissimi vantaggi per questo Rapid Roll Supreme perché oltre a essere potente e anche velocissimo e poi azzera totalmente i grovigli i modelli disponibili sono due eccoli qua, sono bustine da dieci pezzi nella versione Beach Ledgering e Surfcasting entrambi sono nostri prodotti esclusivi perché il gancetto è un gancetto nostro ovviamente la girella non la facciamo noi la girella viene acquistata ma viene acquistata in quella che è la qualità migliore girella altissima qualità in acciaio inox infatti questo Rapid Roll è totalmente in acciaio inox a parte la guaina che chiude che adesso ve la faccio vedere girella in acciaio inox e gancetto che scopre l'entrata del piombo nel momento in cui andiamo a far salire la guaina di silicone sull'occhiello della girella infatti una volta che sale sull'occhiello della girella neanche cade quindi è proprio veloce impossibile poi che te lo perdi in pesca perché è agganciato qua nel momento in cui tiri su mandi giù la guaina e la guaina si ferma al posto giusto perché qui sotto riparte l'occhiello poi più giù non può andare perché c'è l'occhiello del piombo su c'è l'occhiello della girella che ci va solamente se lo forzi il silicone non è una guaina molto molto sottile è fatto apposta è una guaina in silicone molto spessa di quelle che anche con le mani bagnate riesci a prenderla a tirarla su a tirarla giù e non si strappa facilmente ha un ottimo spessore ha uno spessore di un millimetro e mezzo questa è la versione surfcasting aggancio e piombo chiudo e questa è la versione beach ledgering piccolina tutto rapportato la girella in acciaio inox piccolina il giancetto più piccolo e la guaina in silicone nonostante piccola sempre spessa un millimetro e mezzo un millimetro e mezzo per una guaina in silicone ragazzi è tanta roba ecco adesso suppongo che abbiate capito il motivo per il quale quasi tutti coloro che ci commissionano un trave alla fine dopo aver scelto la configurazione il filo, il capocorda, lo snodo come fine corda vanno quasi tutti sul rapid roll supreme modello supreme perché? perché inizialmente il rapid roll era il modello classico il gancetto era un gancetto che prendevamo da stonfo e la girella era la girella nera quella classica adesso il modello supreme oltre a essere tutto in acciaio inox è anche in buste da dieci pezzi non più sei quindi vai col montaggio di travi se questo video ti è piaciuto se ti ho fatto vedere sempre qualcosa di nuovo comunichamelo qua così come un like iscriviti anche al canale spunta la campanella se mi stai seguendo su facebook, su tiktok, su instagram seguimi lo stesso perché ci saranno tantissimi altri video lo so, lo so prima che me lo scrivi te lo dico io il link del rapid roll lo trovi in descrizione nel video la descrizione è sotto su facebook la descrizione è sopra oppure scegli, vedi anche nel primo commento o comunque per qualunque cosa scrivimi anche su whatsapp 377 69 42 432 ti rispondo con il link ciao ciao